Chi segue costantemente da un po' di tempo i miei video sul mio canale YouTube sa che molto raramente parlo di attualità o propongo libri appena usciti. Lo faccio per tutta una serie di motivi. In primo luogo per la mia formazione di classicista e di antichista. In secondo luogo perché insegno materie che sono latino, italiano, storia, per lo più ambientate e collegate al passato. In terzo luogo per mie caratteristiche personali, per mia inclinazione caratteriale e culturale. Ho fatto qualche eccezione e solitamente quando parlo di libri appena usciti si tratta di libri di saggistica. Come sapete i libri in fondo si possono dividere almeno in due grandi categorie, la narrativa da una parte, la saggistica dall'altra. Quest'oggi faccio per l'appunto una di queste rarissime eccezioni, parlandovi per alcuni minuti di un libro uscito pochi mesi fa, nel 2022, scritto dal torinese Andrea De Benedetti. Libro dal titolo piuttosto particolare, Così non va. Fra un attimo vedremo perché. È un libro che ho letteralmente divorato nel giro di pochissime ore, per almeno un paio di motivi. In primo luogo perché è un libro molto breve, non arriva neanche alle 100 pagine. In secondo luogo perché è un libro davvero ben scritto, ironico, puntuale, preciso, intelligente, sul pezzo, per così dire. Inoltre, terzo motivo aggiuntivo, perché parla di una tematica di cui ho sentito parlare spesso nel corso di questi ultimissimi anni e sulla quale si è innescato una sorta di dibattito che non è più un dibattito. È una sorta di crociata, di guerra santa, di contrapposizione fra opposti estremismi. Andrea De Benedetti sulla questione Shwa ha un punto di vista molto preciso. Lui è nettamente contrario alla diffusione dell'uso dello Shwa, tuttavia cerca di argomentare in maniera calma, precisa, puntuale, dettagliata come un sacco di esempi, cosa che invece moltissime persone non ho sentito fare. Come avrete capito sto dalla sua parte, per questa volta mi schiero. Il libro mi ha totalmente convinto delle sue ragioni. Non vorrei però rendergli un cattivo servizio. Mi limiterò semplicemente a fare alcune considerazioni sulle prime pagine del testo, leggendovi anche una piccola parte dell'introduzione dell'autore, e invitandovi caldamente alla lettura di questo breve ma intelligentissimo saggio pubblicato quest'anno da Einaudi a Torino. Partiamo innanzitutto dalla copertina del libro e dal titolo che nella versione completa suona così. Così non Shwa. Limiti ed eccessi del linguaggio inclusivo. È un titolo secondo me molto intelligente, perché contiene due caratteristiche che nel titolo di un saggio secondo me dovrebbero sempre esserci. Da un lato un'indicazione precisa del contenuto del libro che stai per leggere, ed è presente nel sottotitolo che recita così limiti ed eccessi del linguaggio inclusivo. Di questo si parlerà nel testo. Seconda caratteristica, c'è anche quel pizzico di ironia che serve ad attirare i lettori. Il titolo è un gioco di parole. Così non va diventa così non Shwa. Quest'ultima è la parola chiave per capire il testo stesso. Se sfogliamo il libro, troviamo poi, come ovvio, poche pagine dopo un elemento che in realtà non è del tutto scontato, è dell'indice del libro. Una volta un mio vecchio collega diceva questa sua affermazione un po' provocatoria. Vuoi distinguere un bel libro da un libro fatto non tanto bene? Comincia a guardare un dettaglio. Guarda dove si trova l'indice. Se l'indice è nascosto al fondo del libro, sembra quasi che l'autore non voglia aiutare i lettori che stanno per iniziare la lettura. Se l'indice è posto all'inizio, di solito è buon segno. È un segno di intelligenza da parte dell'autore o della casa editrice. In questo caso, guarda caso, le cose vanno proprio così. L'indice si trova immediatamente all'inizio del libro. Un terzo aspetto intelligente, a mio avviso, è la struttura di questo pamflet, di questo piccolo saggio con una punta di polemica al suo interno. La struttura è molto semplice e molto chiara. Un'introduzione, cinque brevi capitoli essenziali, senza fronzoli, e poi una piccola conclusione con i ringraziamenti dell'autore. Molto particolare e, a mio avviso, azzeccata è la dedica del libro, che in realtà è un po' criptica. È molto semplice, due sole parole. Il libro è dedicato a tutti. Letto una prima volta, non si capisce. Riletto alla fine del libro, fidatevi, prenderà significato. È da un certo punto di vista un nuovo gioco di parole e un modo per far capire il punto di vista dell'autore. riguardatelo alla fine della lettura. Bello anche l'esergo, cioè l'afforismo posto prima dell'inizio del capitolo introduttivo, che letteralmente recita così. Il fanatismo consiste nel raddoppiare gli sforzi quando hai dimenticato lo scopo ultimo del tuo impegno. Si parla di fanatismo, si parla di scopi, di obiettivi. È ciò che vi dicevo all'inizio del video, pochi istanti fa. Negli ultimi anni si è creato un dualismo, si è creato una sorta di nuovo spirito di crociata tra i fanatici dello Shwa e i fanatici del Oddio cosa sta succedendo. Notate, Andrea De Benedetti non assume una posizione neutrale, intermedia, si schiera dalla parte del no, ma lo fa in maniera molto più intelligente, motivata, argomentata, seria e competente di tante persone che hanno detto no soltanto in maniera istintiva, per paura, per tradizionalismo, per partito preso. Andando avanti con la lettura del libro troviamo innanzitutto a pagina 3 l'introduzione e, come promesso, vi leggo soltanto alcuni stralci dalla seconda metà dell'introduzione per incuriosirvi alla lettura del libro. Affido poi ovviamente a voi i cinque capitoli veri e propri per chi aveva piacere di leggerlo. Vi leggo le considerazioni contenute da pagina 7 fino alla conclusione dell'introduzione, cioè fino a pagina 11. Intanto in tanto magari ci soffermiamo per fare insieme qualche considerazione. De Benedetti in sostanza in queste pagine ci spiega perché ha voluto scrivere questo libro, quali sono state le sue motivazioni e anche un po' le sue paure, i suoi dubbi. Lo vediamo assieme. La prima volta che ho pensato a questo libro, nell'inverno 20-21, quella sullo schwa era una disputa per pochi iniziati. Se ne discuteva animatamente tra addetti ai lavori. Alcuni militanti cominciavano a usarlo nelle loro bolle social. Sporadicamente uscivano articoli e si consumavano effimere polemiche. Di tanto in tanto saltava fuori la notizia di questa o scuola, istituzione o casa editrice che aveva deciso di adottarlo, accanto o in alternativa all'asterisco, come standard redazionale. Ma la sensazione diffusa era che si trattasse di una moda passeggera destinata a spegnersi, non appena si fosse trovato un argomento migliore di cui discutere. Quando l'ho proposto all'editore, intorno a metà novembre 2021, il dibattito era già molto più vivace. La platia dei litiganti si era allargata. Sulle pagine e negli inserti culturali delle principali testate nazionali non si parlava d'altro. Fioccavano su entrambi i fronti, notate il lessico, è come in guerra, due fronti contrapposti, interventi di intellettuali, attivisti e semplici cittadini, non sempre coi toni, le competenze e gli argomenti adeguati, che ci tenevano a dire alla loro. Tante persone inizialmente agnostiche o equidistanti, cominciavano a schierarsi sui social, di nuovo il lessico militare, schierarsi come militarmente da una parte o dall'altra, e insomma iniziava a farsi largo l'idea che probabilmente la discussione sullo schwa, ancorché circoscritta a una cerchia abbastanza ridotta di appassionati di lingua e militanti, sarebbe durata più a lungo di quella su vaccini e green pass. Notate questi ultimi paragoni con altre discussioni di attualità. Anche in questi casi si è assistito a una polarizzazione molto netta, a una spaccatura netta, bianchi contro neri per così dire, su tematiche di attualità. Qui si citano i vaccini, si parla del green pass. Avrete notato come molto spesso, per non dire quasi sempre, quando si vede discutere soprattutto sui social, su internet di questi argomenti, si assiste ad una divaricazione tra persone o completamente favorevoli e persone completamente contrarie che si oppongono. La fascia intermedia, per così dire il ceto medio, difficilmente è presente in queste discussioni. C'è una polarizzazione che finisce col diventare patologica. Si formano due gruppi con opinioni radicalmente contrapposte e invece di confrontarsi, argomentare, discutere, si finisce semplicemente con l'insultarsi a vicenda e con il litigare. In fondo, più in piccolo, la polemica sullo schwa spesso ha preso questa stessa direzione pericolosa e anche inutile, completamente sterile, infruttuosa. Mentre scrivo queste righe, siamo a metà febbraio 2022, a pochi giorni dalla consegna definitiva del manoscritto, lo schwa è diventato la frontiera identitaria intorno alla quale si sta consumando una battaglia che ha assunto i crismi della crociata, con i si schwa a condurre campagne martellanti sotto le insegne sacre del linguaggio inclusivo. Ecco, inclusione è un'altra parola che va estremamente di moda anche a scuola in questi ultimi anni. Spesso la si utilizza anche con leggerezza a sproposito. E il Noche va a replicare colpo su colpo con articoli non meno martellanti e iniziative tanto aggressive nei toni quanto velleitarie, se non addirittura controproducenti negli esiti, come la petizione prolingua nostra lanciata sulla piattaforma change.org, che chi scrive ha frettolosamente firmato, salvo pentirsene subito dopo. Interessanti queste due parole, frettolosamente firmato e poi pentirsene un po' di tempo dopo. Penso che sia una cosa che è capitata spesso a tanti di noi quando, senza esserci informati bene preventivamente, ci viene richiesta un'opinione personale e noi istintivamente diciamo se siamo favorevoli o contrari a qualcosa. Poi magari a distanza di pochi giorni ci pentiamo già un po' di questo schierarci in maniera così superficiale, così repentina, e magari ci rendiamo conto che approfondendo quell'argomento non eravamo poi così radicalmente contrari oppure così radicalmente favorevoli, ma che si potevano assumere anche delle sfumature intermedie nel nostro posizionamento, ma ormai è troppo tardi. Una polarizzazione abbastanza paradossale se si tiene conto che buona parte del dibattito, o almeno quella più interessante, si svolge all'interno del campo progressista, secondo la consolidata tradizione che vede la sinistra sfasciarsi intorno ai dettagli e la destra raccoglierne i cocci. Al tempo stesso è abbastanza sintomatico che questa ennesima battaglia di posizionamento interno si sia levata nell'unico ambito quello dei diritti civili, da intendersi qui molto lato senso, cioè in senso molto generico, molto ampio, che negli ultimi trent'anni è rimasto a fare da collante tra le diverse anime della sinistra stessa. Il terreno per ragionare e dialogare è comunque sempre più ridotto, ed è sempre più ridotto soprattutto lo spazio per dire qualcosa che non sia già stato detto. Non passa ormai giorno senza che esca un articolo, uno speciale, un podcast, un video, un libro, per tacere delle cateratte di contenuti sui social sulla questione. Tutta roba che un istante dopo la pubblicazione è già diventata vecchia, fatalmente superata dall'affastellarsi di argomentazioni e contro-argomentazioni replicate all'infinito in una cupa misanabim della dialettica e della ragione umana. Difficile ricordare, nella storia del dibattito culturale nostrano, un tema di tale, apparentemente minuscola portata, che abbia tenuto banco così a lungo, una questione su cui abbiano sentito il bisogno di pronunciarsi così tante voci autorevoli e con così tanta animosità. Di certo quelli che vivono fuori da questa bolla sono ancora l'amplissima maggioranza del paese, è bene rimarcarlo, potrebbero fare fatica a capire il tempo, le energie e lo zelo intellettuale profusi per un suono simbolo, appunto allo shba, che al momento sta a cuore, se va bene, a metà della bolla stessa. Eppure, forse, lo capirebbero meglio se gli si spiegasse bene qual è la vera posta in gioco. E qui secondo me sta il punto, non solo di questa introduzione, ma dell'intero libro. De Benedetti parte da questa premessa. Negli ultimi tempi, negli ultimi due, tre anni soprattutto, va piuttosto di moda questo argomento nella conversazione tra intellettuali, tra persone colte, ma anche in molti siti internet, discutere se sia opportuno introdurre, quasi tra virgolette per legge, l'obbligo dell'utilizzo di questo grafema, lo shba. Tuttavia la maggior parte delle persone, la maggior parte degli italiani, non si interessa al problema, non sa neanche di che cosa si stia parlando, probabilmente. Mentre quella ristretta minoranza che ne parla lo fa in maniera talebanica, o completamente favorevoli allo shba, o radicalmente oppositori dello shba. Come a dire, una polarizzazione fortissima all'interno di quella che in realtà è una piccola minoranza all'interno della società, in un mare di indifferenza o di ignoranza, anche in buon senso e in buona fede, dell'argomento. Lui dice qual è la vera posta in gioco, però? Ascoltate. Non l'inclusione, i diritti delle donne e delle persone transgender, la lotta al patriarcato, il progresso morale dell'umanità, bensì leggemonia sui significanti, la pretesa di far combaciare il codice linguistico con quello etico, l'idea che la lingua debba essere al servizio delle identità prima che delle comunità, e in generale la centralità stessa, nel discorso pubblico, dell'elemento identitario proposto come paradigma morale assoluto anche da chi ne parla da una prospettiva fluida. Se questo libro ha ancora senso di essere pubblicato e letto dopo l'infinita messe di contenuti usciti negli ultimi mesi, è proprio, attenzione bene qui, perché si propone di allargare il discorso, di dire qualcosa non solo sullo schwa, tra parentesi un intero capitolo quasi dedicato a spiegare che cos'è lo schwa, ma anche sul modo in cui se ne è parlato, di rimuovere le incrostazioni retoriche e cognitive che inquinano il dibattito, di spostare la prospettiva dai significanti, cioè dalle questioni puramente formali, grafiche, ai significati, cioè i contenuti al senso profondo, morale, politico, civile di questa operazione, dal testo al contesto e di fornire una mappa alternativa per affrontare il problema, ben sapendo che le mappe sono fatte per orientarsi, non per indicare un unico percorso. Così non va, 2022 e in Audi Torino di Andrea De Benedetti, a mio avviso è un libro attuale, intelligente, scritto bene, pieno di ironia, di concretezza, di buonsenso, caratteristica che ultimamente manca a tantissime persone, un libro che merita assolutamente di essere letto. Attenzione, non un libro tecnico o neutrale, l'autore si schiera nettamente all'interno di questa polemica, all'interno di questa discussione e si schiera con chiarezza e nettezza contro questa proposta di utilizzare lo schwa, ma lo fa, ripeto, in maniera equilibrata, intelligente, moderata, con un sacco di motivazioni valide e di argomenti profondi, non di pancia, come spesso si fa quando si dice no a tutto. Concludo leggendovi soltanto una bella citazione presente nell'ultimo capitolo del libro, precisamente a pagina 90, che mi pare che possa far capire quale è in fondo la posizione dell'autore. Viene citato un brano di Tiziano Scarpa e le parole sono queste. Le parole non ci rappresentano, nessuna parola, mai. Nella diffidenza verso le parole, lì, sta il nostro posto nel mondo, che non è dentro le parole, ma nell'ombra che le parole gettano di fianco a se stesse. Credere che le parole, potrei dire il modo in cui sono scritte, la loro grafia, la loro desinenza, parliamo di schwa, credere che le parole possano accumulare, rispettare, accogliere, contenere, includere, è un errore politico. È un errore, verrebbe da dire soprattutto, e lo direbbe credo anche De Benedetti, di una parte della sinistra progressista, affezionatissima alla tutela dei diritti civili, inventandone sempre qualcuno nuovo ogni giorno, ma che ormai si è completamente dimenticata altre categorie di diritti altrettanto importanti, che sono i diritti sociali, che però molto spesso richiedono riforme non puramente estetiche, teoriche, a costo zero, ma riforme costose, difficili da realizzare, che richiederebbero molto più impregno e molto più pragmatismo. Come a dire, una sinistra nobile, dei grandi principi, delle grandi cause civili, che si dimentica però completamente i diritti sociali, quelli che in teoria la sinistra dovrebbe in primo luogo, o comunque anche in parallelo agli altri, diffondere, difendere, proteggere o conquistare, a seconda dei casi. Nessuna parola è abbastanza rispettosa, nessuna parola è abbastanza accogliente, con o senza schwa. Pensare di poter essere inclusi nelle parole è un abbaglio, è un'illusione, è un pio desiderio. Lo è per chiunque, di ogni genere e sesso ed età e classe. Questa illusione è il contrario della politica. E poi il breve commento di De Benedetti. Ecco, forse la chiave di tutto sta proprio in questo, nell'accettare l'alterità del linguaggio, nel convivere con la sua ostilità, nel fare i conti con i suoi limiti, ben sapendo che la sfida contro questi limiti si ripropone ogni giorno in forme diverse. E che la soluzione non è mai la stessa. Di quest'autore, di Andrea De Benedetti, che scrive per Inau di Torino, ho letto nel corso di questi ultimi due anni due libri. Quello di cui abbiamo parlato quest'oggi e che vi consiglio molto caldamente, cioè Così non va, pubblicato quest'anno, nel 2022, e ne approfitto per suggerirvelo un secondo libro di qualche anno fa, dal titolo di nuovo piuttosto curioso, Val più la pratica, pubblicato in questo caso invece dagli editori La Terza. Molto bello in quel caso anche il sottotitolo, piccola grammatica immorale della lingua italiana. Concludo con una mia considerazione personale, molto spesso scherzando un po', esagerando, dico che forse per certi aspetti l'estetica è più importante dell'etica e della morale. Questo sottotitolo sembra andare un po' nella stessa direzione, non so se Andrea De Benedetti è d'accordo con me o no, è una piccola provocazione che lancio, ma molto spesso coloro che parlano molto di morale e di etica, finiscono col diventare moralisti, e il moralismo è un po' una caricatura, un eccesso della morale. Forse certe volte un po' più di attenzione alla frivola estetica, basterebbe a posizionarsi in maniera meno talebana su determinate questioni. Grazie a tutti per l'attenzione a questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, commentate liberamente, indipendentemente dal vostro punto di vista, come ovvio, purché la discussione sia civile e di buon senso, e se volete iscrivetevi al mio canale YouTube. Grazie a tutti per l'attenzione, complimenti ad Andrea De Benedetti anche per il coraggio, come dice lui stesso nella conclusione del libro, e alla prossima!